È stata una delle moto più attese di fine 2021, ve l'abbiamo già raccontata a ECMA e vi ha già raccontato un po' come va Marco in occasione della presentazione stampa in Sardegna. Ora però è arrivato il momento di fare uno dei nostri 1000 km con l'Aprilia Touareg 6,60. Il motivo? Beh, è semplice perché come in tutti i nostri long test le moto ci piace raccontarvele nel dettaglio e anche come vanno dopo aver fatto tanta strada. Buona visione! Touareg. Sono le popolazioni di nomadi che vagano per il deserto del Sahara. Non deve quindi stupire che l'Adventure di Noale, nel rispetto del nome che porta sul serbatoio, sia una moto progettata per viaggiare su qualsiasi tipo di terreno. Proprio come quando è stata lanciata per la prima volta a metà degli anni Ottanta. Le carte che la Touareg butta sul piatto la inseriscono dritta dritta nel segmento dell'endurone media con ruota anteriore da 21 pollici. Il cuore è un bicilindrico in linea da 660 cm3, 80 CV e 70 Nm, che rispetto al 2 in linea della RS 6,60 è meno potente ma ha più coppia ed è stato ruotato all'indietro di 9,2 gradi per centrare al meglio le masse. Non è tutto. C'è anche la coppa dell'olio che è stata ridisegnata per ingombrare meno e aumentare la luce a terra, che è di ben 240 mm. Per quanto riguarda la ciclistica vi diciamo soltanto che il telaio tubolare in acciaio, accoppiato a staffe di alluminio, è ancorato al motore in 6 punti. Del resto ne parleremo strada facendo. Prima di partire vi porto come al solito con me seduti al posto di guida per vedere cosa c'è sulla tua REG 660. Prima di andare a vedere il display e le varie funzionalità vi parlo del cupolino, il parabrezza di serie, volendo c'è anche la versione touring più larga e più alta ma devo dire che con questo mi sono trovato bene perché è vero metà del casco più o meno resta scoperta ma non si creano particolari turbulenze che possono dar fastidio nemmeno quando si viaggia intorno ai 130-140 all'ora. E ho usato questa moto con vari tipi di casco anche con quello che sto usando ora da dual che comunque ha la visiera che in questo senso non aiuta. C'è poi la sbarra per il supporto per il roadbook, GPS, eventuale navigatore che oltretutto fa anche molto figo. E poi vi segnalo che in aprile sono stati molto intelligenti a usare questa palpebra che serve per coprire il display quando il sole ha una determinata posizione in modo tale da far sempre leggere bene le informazioni. Infatti io non ho avuto problemi almeno fino adesso. Qui c'è la presa USB per collegare lo smartphone che eventualmente si può attaccare anche qui ma adesso vi faccio vedere il display che si accende e ha la classica animazione Aprilia. Schermata principale ci sono varie informazioni, vi dico che si controlla tutto dal blocchetto di sinistra fatta eccezione per cambiare le mappature che si deve utilizzare questo comando qui. Ci sono mappature individual, explore, urban e off-road. Comunque ogni mappatura è come se fosse una mappa individual perché si può settare in ogni parametro. Questo qui è il tasto per le luci di posizione o anabbaglianti oppure fendinebbia. E di qua invece una volta che ci posizioniamo su ATC con il comando del cruise control, quando il cruise control ovviamente non è attivo, si può regolare il controllo di trazione ed eventualmente anche disattivare tenendo premuto verso il basso. A moto ferma poi con la freccia di destra si entra nel menu impostazioni dove si può fare qualsiasi tipo di operazioni che si fa su qualsiasi moto moderna ma sulla Touareg c'è anche il menu riding mode dove vi dicevo che ogni mappa è come se fosse una mappa individual perciò si può entrare dentro e settare vari parametri come l'engine map che controlla erogazione e potenza del motore, ci sono tre livelli, engine brake, controllo di trazione che può essere regolato anche da questa schermata, ABS che può essere su due, è attivo su entrambi gli assi mentre su uno è attivo solo sull'asse anteriore e poi si torna indietro. Vi segnalo anche che la Touareg è una delle poche moto anche se sono sempre più frequenti che in mappa off-road permette di disabilitare completamente l'ABS anche dall'asse anteriore quindi. Una volta che la ingaggiate è disattivato solo dietro, tenendo premuto il tasto per cambiare la mappatura viene disabilitato da entrambi gli assi che può far comodo anche quando si fa fuoristrada un po' più estremo o chi preferisce avere l'ABS completamente disattivato. Poi ci sono tutte le altre informazioni che si trovano su qualsiasi moto, ci sono anche due trip A e B che all'interno ci sono varie informazioni come chilometraggio totale, il trip, il tempo, velocità massima, consumo medio, consumo istantaneo e via dicendo. Però direi che è arrivato il momento di partire per scoprire veramente come va questa Touareg 6,60. Primi 250 km fatti e come al solito direi di partire dall'ergonomia, da come si sta in sella perché su una moto di questo tipo è molto importante perché lo ricordo la Touareg è disponibile anche in versione depotenziata per patente A2 e quindi chissà mai che magari qualcuno che inizia ad andare in moto ed è molto appassionato di moto da fuoristrada o comunque del segmento delle adventure potrebbe scegliere di partire con questa moto. Prima di salire vi faccio vedere una cosa che è molto interessante secondo me, l'ho scoperto da poco. Mi hanno spiegato in apria che il codino, oltretutto dove c'è la luce che è intera e secondo me è molto figa anche perché ricorda le moto da Dakar di un tempo rivisitate un po' in chiave moderna, dicevo il codino si trova più in basso rispetto alla sella. Questo è stato fatto apposta, evoluto, in modo tale che quando si sale, quindi si passa con il piede destro sopra il codino non vada a toccarci contro e quindi renda un po' più facile salire in moto, anche perché va ricordato che le moto di questo segmento hanno tutta la sella abbastanza in alto, infatti la Touareg con la sella standard ha il piano di seduta 860 mm mentre nel mio caso che ho la sella comfort è un po' più comoda ma anche un po' più alta 880 mm e questo è molto interessante perché io, è vero, sono alto 1,80 m quindi abbastanza lunga, però tocco benissimo con entrambi i piedi a terra però addirittura le ginocchia un po' piegate e questo perché spiega un po' anche il lavoro che ha fatto Aprile che secondo me in questo senso è molto buono perché innanzitutto, beh, la moto è molto stretta tra le gambe quindi anche quando si guida in piedi, ho già provato un po', si riesce a tenere bene, si ha un ottimo feeling si riesce a far quello che si vuole da questo punto di vista con la moto ma la Touareg ha le sospensioni, l'escursione anteriore e posteriore, di 240 mm che è la stessa oltretutto della KTM 890 Adventure R ed è il valore più alto nel segmento delle Endurone, delle Maxi Enduro chiamatele un po' come volete insomma e avere la sella così bassa, o meglio, riuscire a mettere i piedi a terra così facilmente nonostante questa escursione non è roba da poco, vuol dire che ci hanno lavorato tanto vuol dire che anche come ingombro, nonostante derivi il motore da moto stradali, sia stato studiato veramente bene passando a come sto in sella, beh innanzitutto vi dico già che purtroppo magari chi è un po' più basso potrebbe avere qualche difficoltà a mettere i piedi a terra, anche se poi non così tanto perché le pedane sono nella posizione corretta quando si guida, anche se nella guida più sportiva le avrei preferite giusto un filino indietro ma veramente roba da poco però sono proprio in mezzo alle gambe nel vero senso della parola perché quando andate a mettere i piedi a terra toccate un po', se vi abituate a metterle in avanti o all'indietro nessun problema, potrebbe essere una questione di abitudine ma così di primo impatto ve le trovate proprio qui quando si sta in sella si sta bene, con la sella più alta la consiglio per chi può permettersela perché fa sì che il manubrio sia un po' più in linea anche per guidare seduti perché non mi dispiace affatto, il manubrio è abbastanza alto così che quando andate a guidare in piedi non si trovi al pian terreno come succede su altre moto del segmento ma si ha nella posizione giusta, chiaro è che se la volete usare solo in fuoristrada magari due riser che lo alzino non fanno male ma come base di partenza davvero ottima, una delle migliori da questo punto di vista i comandi, bene, la leva del freno è regolabile, ci si arriva bene e la leva della frizione invece purtroppo non è regolabile nella distanza e anche se io che ho le dita lunghe nella media mi sentirei di dire ci arrivo bene sia con l'indice sia con il medio non penso che abbia problemi nemmeno chi ha le dita un filino più corte sella comoda, la comfort è veramente allo schiumato perfetto nel senso che è morbida ma va giù quel tanto che basta per poi diventare sostenuta e quindi non stancare neanche alle lunghe distanze e oltretutto non trasmette vibrazioni almeno per quello che ho avvertito fino a questo momento prima di passare al discorso passeggero e chiudere con l'ergonomia vi faccio notare un piccolo dettaglio che ho visto prima e che mi piace molto perché sono dettagli come questo che ti fanno capire quanto una casa ha lavorato effettivamente su un progetto anche sulle piccole cose per farlo nel migliore dei modi il paramano di destra, entrambi i paramani vi dico che comunque sono molto protettivi anche quando si va in autostrada di aria ne arriva poco ma il paramano di destra A non finisce verso il basso quando va verso il centro del manubrio va a coprire il serbatoio dell'olio del freno anteriore e questo qui secondo me è veramente una chicca perché anche nel caso di fuoristrada un po' più estremo sassi così non andrebbero direttamente su questo componente rovinandolo anzi lo coprono e non è neanche brutto da vedere ed è una di quelle cose che comunque ci devi pensare prima di farla ti deve proprio venire e vuol dire che la moto la analizzi da cima a fondo proprio col microscopio ora ritornando sul discorso passeggero vi dico che qualcuno dietro ci sta è chiaro queste moto non vengono studiate con l'obiettivo principale quello di portare secondo però la porzione di sella a disposizione non è male in lunghezza in larghezza è un po' risicata come spesso accade però anche la sella comfort, ritorno un attimo su questa è comoda anche in questa zona è giusto schiumato anche qua le pedane si trovano alla giusta distanza quindi non si hanno le gambe troppo piegate o nemmeno sono troppo lontane potrebbero chi ha più del 44 di piede mi viene da dire intralciare ogni tanto se guidate proprio sulle punte ma stiamo veramente parlando di qualcosa di estremo e l'unica cosa che mancano nella versione che ho io sono le maniglie per il passeggero perché non ci sono e chi si siede dietro può attaccarsi o qua oppure in questi svasi qui anche se non sono proprio comodissimi ora è arrivato il momento di ripartire perché abbiamo ancora tanta strada da fare e quindi ci vediamo più avanti per parlare di tutto il resto di cui non abbiamo parlato finora 500 km fatti e direi che è arrivato il momento di aprire il capitolo motore beh il 660 della Touareg che deriva da quello di Tuono e RS è stato oggetto di qualche perplessità soprattutto quando è stata presentata perché c'era il tema di questa moto qui quella che dovrebbe essere una moto da fuoristrada comunque un Endurona è adatto a un motore così piccolo di cilindrata beh devo dire che manco in realtà dirlo apposta perché si sa come lavora Aprilia hanno fatto un ottimo lavoro anche su questa moto perché prima di salire mi aspettavo che fosse molto simile a quello della Tuono quindi un motore che per quanto piccolo e pur essendo un bicilindrico in linea ami girare in alto e quindi non proprio adatto all'utilizzo di questa moto qui in realtà c'è un carattere completamente diverso si vede che hanno lavorato molto sulla distribuzione della coppia anche abbassando la potenza comunque e quindi si ha un motore che manca un po' la classica botta di coppia che c'è in basso su quella che ti aspetteresti da una moto di questo segmento però ha un'erograzione veramente super lineare tant'è che si mette la sesta marcia 40 all'ora riprende la moto non tossisce la catena non sbatte veramente perfetto da questo punto di vista anche come la gestione del gas che secondo me è veramente rasenta la perfezione ce ne sono poche di moto che hanno una gestione così precisa soprattutto in funzione anche della catena e quindi da questo punto di vista mi piace per quanto riguarda il valore di coppia che c'è proprio in basso quindi a 3-4 mila giri che non mi sarebbe dispiaciuto avere qualcosina in più direi che lasciamo le considerazioni per quando sarà il momento non vi preoccupate che ci sarà occasione di parlarne in questo mille chilometri per quello che invece è l'erogazione quindi molto fluida molto lineare non ci sono buchi quando si sale di giri è anche merito dalla rapportatura del cambio che secondo me è azzeccata perché è stata accorciata di molto rispetto a quella della Tuono e dell'RS e secondo me hanno proprio azzeccato perché sia un po' quella mancanza di coppia che c'è in basso viene sopperita dai rapporti abbastanza corti che comunque pur essendo corti sono spaziati bene infatti in sesta si viaggia anche in autostrada comunque in tangenziale a 130 km orari sia proprio a 6 mila giri spaccati appena sotto ma veramente di poco è vero si potrebbe preferire in qualche occasione soprattutto per chi fa tanta autostrada un regime di rotazione appena più basso giusto per togliere le uniche vibrazioni che sono quelle che ci sono sulle pedane che oltretutto ci sono anche sulla Tuono e sulla RS li avevamo già segnalati nelle rispettive prove come nel 1000 km con della Tuono 660 però complice anche magari la sella comfort non ci sono vibrazioni sulla sella non ci sono particolari vibrazioni sul manubrio quindi tutto sommato devo dire che si viaggia bene molto tranquilli e in più a 130 essendo già a 6 mila giri quando si va a riprendere il gas in mano magari per fare un sorpasso si riesce senza problemi perché la moto riprende molto fluida sempre però con una bella spinta si riesce a fare qualsiasi sorpasso in autostrada senza la necessità di scalare restano gli ultimi due temi quindi frizione e cambio partendo dalla prima non mi dispiace devo dire che è abbastanza morbida pur essendo a filo stacca abbastanza velocemente passando al cambio invece beh si vede che hanno lavorato parecchio in aprilia su questo componente perché mi ricordo sulla tuono che spingeva tanto in scalata e tagliava anche un po' il gas in salita in alcune condizioni lo fa ancora ma molto meno quindi bravi perché ci hanno lavorato sopra secondo me e adesso non dico che sia perfetto ma funziona veramente molto bene quindi per chiudere quello che è il capitolo motore almeno per quello che è l'utilizzo su strada è vero è un motore abbastanza piccolo come cubatura più piccolo del suo segmento però ha anche una bella anima sportiva tant'è che anche quando c'è qualche strada mista con un po' di tornanti un po' di curve larghe anche c'è un bel carattere sportivo è veloce comunque a salire di giri ti porta fuori dalle curve sicuramente su strada vi garantisco che ci si può divertire grazie soprattutto alla rapportatura del cambio che secondo me è azzeccatissima per questa moto adesso ripartiamo e abbiamo ancora un po' di strada da fare un po' di cose da raccontarvi non siamo ancora arrivati a 750 km anzi siamo ancora più vicini ai 500 però è arrivato il momento di parlare della ciclistica per quello che è l'utilizzo stradale prima di passare alla guida in fuoristrada dove insomma cambia un po' tutto il discorso per quello che ho fatto finora quindi già un po' di chilometri che permettono già di capire bene come funziona la moto beh mi sento di promuoverla a tua reg in tutto e per tutto anche come moto stradale c'è un tema innanzitutto che quando sali su questa moto io ho fatto mi è bastato fare veramente pochi chilometri giusto neanche il tempo di tornare a casa ancora meno qui si sente che questa tua reg 660 è un'aprilia in tutto e per tutto questo significa che anche sul veloce nonostante la ruota anteriore da 21 è stabilissima ti dà sempre tantissima fiducia rimane lì dove la metti e non fa giochi strani dicevo nonostante il 21 perché come tutti sappiamo la ruota anteriore da 21 è quella un po' meno propensa alle velocità più importanti è un po' meno diciamo dall'animo stradale però va anche detto che in generale tutte le moto nuove con la ruota da 21 davanti hanno fatto dei grandi passi in avanti e passi in avanti che direi ha ereditato al 100% anche la tua reg e anzi secondo me sulla guida stradale rispetto ad alcune concorrenti le più dirette ci mette qualcosina in più perché la moto nonostante uno ci si aspetti una moto lenta a scendere in piega molto rotonda invece è molto veloce risponde molto bene a quando si va a schiacciare sulla pedana per entrare in curva a quando si schiaccia sulla pedana anche al centro della curva e anche a quando si va a spingere il manubrio che peraltro secondo me è della misura perfetta largo il giusto quindi è molto sensibile alla spinta comunque c'è una buona leva e questo nella guida stradale soprattutto quando si va più forte nel misto aiuta e non poco ho fatto strade un po' di tutti i tipi e ho fatto un po' di guida urbana un po' di autostrade tangenziali e soprattutto tanta guida nel misto per ora e alla fine io mi diverto sempre è chiaro che va a preferenza al 21 o meno ma è innegabile che questa moto sia davvero piacevole e divertente da guidare su strada anche perché va detto che parte di tutta questa bontà va attribuita alle gomme le Pirelli Scorpion Rally STR che non hanno certo bisogno di presentazioni ma io continuo promuovere al 100% questa gomma come compromesso nel senso che in fuoristrada e ne parleremo ripeto domani sull'asciutto funzionano bene e quando sei su strada invece hanno il profilo giusto rotonde il giusto però sono comunque abbastanza rapide hanno un grip esagerato grip che in questo caso è supportato anche dalle sospensioni in particolare dal mono la taratura generale della moto è abbastanza morbida io di solito preferisco tarature un po' più rigide ma questa mi è piaciuta e nonostante la taratura e l'escursione così accentuata dietro anche quando si esce dalla curva si apre il gas non pompa mai e quindi c'è sempre tanta trazione ti senti sempre sicuro la moto rimane sempre con un assetto abbastanza neutro tranne che quando si va a staccare un po' più forte chiaramente 240 mm di escursione davanti non sono pochi e c'è tanto trasferimento di carico chiaramente anche in funzione dell'assetto che dicevo è abbastanza morbido o comunque non è particolarmente rigido non sono ancora intervenuto comunque sulle regolazioni e per quello che è l'assetto standard devo dire che ci siamo alla grandissima anche per quello che è il comfort soprattutto la forcella assorbe bene scorre molto bene questo aiuta anche nell'assorbimento delle asperità quando le buche sono più importanti un po' si sentono mi sarei aspettato un filo meno ma veramente poca roba passando al discorso freni beh qua c'è secondo me una cosa una caratteristica che è abbastanza indicativa perché davanti la Tuareg monta delle pinze classiche delle pinze assiali non delle pinze radiali ma c'è tanta potenza frenante anche ricordiamoci di che tipo di moto stiamo parlando e quindi questa è la dimostrazione del fatto che non è solo la pinza il tipo di pinza fare la differenza frena bene è un buon impianto avrei preferito forse un po' più di potenza nella prima parte di escursione della leva per quando si va a rallentare non doverla tirare tanto quanto si tira ora però potenza non manca su strada va bene e questa caratteristica qui aiuterà sicuramente nella guida in fuoristrada dietro il freno anche lì potenza ce n'è abbastanza avrei preferito un comando un po' meno spugnoso preferisco i comandi un po' più secchi soprattutto dietro però anche qui è un po' una questione di preferenze secondo me anche perché sia davanti sia dietro entrambi i freni sono supportati da un ottimo ABS Aprilia comunque si sa fa sviluppo degli ottimi controlli elettronici e l'ABS non fa eccezione perché entra solo quando strettamente necessario quando c'è in gioco tra virgolette la sicurezza se no lascia lavorare i freni e sicuramente anche quando si va un po' più forte questa cosa aiuta anche a godersi un po' di più la guida diciamocelo la giornata di oggi finisce qua anche perché si sta facendo buio e perché domani sarà una giornata veramente lunga dove arriverà la parte che forse molti di voi staranno aspettando con più fermento ovvero quella del fuoristrada perché insomma questa moto basta guardarla e poi soprattutto il nome Tuareg è sinonimo solamente di fango terra e polvere il nome Tuareg il nome Tuareg bene la giornata di ieri è finita con un temporale di quelli apocalittici però come vedete già oggi ho iniziato a fare un po' di fuoristrada e prima di raccontarvi come va la Tuareg lontano dell'asfalto vi do solamente due consigli da mettere in pratica quando decidete di passare dalla strada alla terra semplicissimi che sono sia per la sicurezza e anche per divertirsi un po' di più gommini delle pedane via così avete più grip quando state in piedi quando dovete spingere sulle pedane sono semplicissimi da togliere si sfilano senza nessun attrezzo seconda cosa pedale del freno chiave a brugola del 3 si svitano i due bulloni che ci sono sopra e si gira come ho fatto io adesso in modo tale da alzarlo che sia nella posizione corretta per quando siete in piedi sulla moto e ultima cosa che consiglio vivamente soprattutto anche con le str per dare anche un po' più di trazione sgonfiatele se avete l'attrezzo per misurare la pressione tanto meglio andate più o meno a 1.8 circa altrimenti andate un po' a sentimento non serve sgonfiarle troppo ma solamente giusto per avere un po' più di trazione e sentirsi più sicuri adesso riparto perché faccio un po' di terreni così e dopo vi racconto finalmente come va la tua REG 660 in fuoristrada fuoristrada fatto in realtà me ne manca ancora un po' qualche chilometro ne abbiamo già fatti un bel po' siamo intorno ai 750 chilometri beh che dire confermo le buone sensazioni sulla tua REG oltretutto sarebbe secondo me da dividere un po' la questione ciclistica da quella motore andando con ordine partirei dalla ciclistica che è veramente ottima sia la posizione in sella come ergonomia la moto è bella stretta tra le gambe il manubrio considerando che si tratta di un manubrio con l'altezza standard è alto il giusto i comandi sono tutti facilmente raggiungibili abbastanza largo sia un buon controllo le pedane senza i gommini hanno un grip esagerato e oltretutto sono belle larghe quindi si sta bene sopra con i piedi e anche il freno dietro si arriva bene con una volta che viene girato e funziona anche bene ve lo dico già quella che era ciclistica beh bella reattiva la moto anche in offroad anche quando è un po' più vicido anche quando è un po' più lento la moto si muove velocemente e per questo ho fatto un esperimento nel senso che siccome si parla di una moto da dual che deve passare dalla strada al fuoristrada con estrema facilità e senza perdite di tempo ho lasciato l'assetto standard e per il tipo di utilizzo che abbiamo fatto oggi e quindi percorsi abbastanza lenti oltretutto con la pioggia di ieri è molto bagnato per terra non si riesce ad andare fortissimo mi piace mi piace perché davanti assorbe bene è comunque una taratura più morbida quando appunto per terra è scivoloso non guasta mai e la taratura morbida dietro fa sì che ci sia tanta trazione meccanica oltretutto questa moto già di persena molto un po' più morbida dietro aiuta a dare trazione alle str che per quanto ottime gomme quando c'è acqua quando c'è fango non riescono a esprimersi al meglio giustamente mi viene da dire anche perché insomma sono gomme 50 e 50 anzi forse più stradali da questo punto di vista per quanto riguarda il motore quello di cui abbiamo parlato ieri quindi la mancanza di quella castagna in basso secondo me si fa sentire e può essere sia un aspetto positivo sia un aspetto negativo positivo sicuramente per chi vuole avvicinarsi al mondo delle off-road con queste moto che magari non ne ha mai fatto tanto nemmeno con quelle specialistiche perché si sale sopra e non avendo così tanto tiro in basso anche se si sbaglia col gas non bisogna stare sempre sull'attenti come ad avere tra virgolette il grilletto in mano anzi si può aprire e la moto rimane lì non fa per niente movimenti strani che possono anche un po' impaurire anzi aiuta tantissimo sia che si tenga il controllo di trazione attivo a uno ovviamente che taglia parecchio quando si va piano invece quando si va più veloce dà anche una mano se si vuole a fare qualche derapata e invece per chi è più skillato per chi è abituato a usare queste moto che per quanto leggere 186 kg sono relativamente pochi per il motore per il tipo di moto però c'è da dire che sono più pesanti di una monocilindrica perciò chi è skillato comunque almeno io anche personalmente avrei preferito avere quella classica castagna in basso per far sì che ti trovi davanti all'ostacolo roccia tronco quel che sia e con un colpo di gas magari aiutandoti con la frizione a metti metti la moto su una ruota riesce a superarlo rimane un po' più leggera davanti anche quando si apre la classica derapata tutto più semplice viene quando c'è più coppia in basso per chi ripeto è abituato anche a far fuori strada con queste moto è vero aiuta anche in determinate situazioni tipo col viscido di oggi il fatto che sotto non sia troppo cattiva però un po' più di coppia io l'avrei preferita tolto questo veramente anche il motore si è comportato molto bene spinge sempre bene e mi sarebbe piaciuto farvi vedere qualcosa di un po' più tra virgolette estremo ma in primis non c'erano proprio le condizioni adatte sia di gomme ma anche col fango si fa sempre un po' fatica però è stata fatta anche un po' apposta perché per chi volesse sapere come si regola nel dettaglio elettronica ciclistica quindi che click dare alle sospensioni per regolare le per i fuoristrada sappiate che stiamo organizzando su DORT una prova dedicata alla Tuarex 660 con atti un po' più estremi un po' più impegnativi che sicuramente piaceranno agli appassionati con delle gomme giuste e ci sarà anche una piccola sorpresa della quale però non vi dico niente ancora adesso stiamo ancora cercando di organizzarla detto questo mi manca ancora un po' di strada e poi abbandonerò definitivamente l'off-road c'è ancora un po' di strada normale asfaltata e poi ci vediamo per tirare le conclusioni su questo 1000 km con la Tuarex 660 di strada è passato più o meno un giorno da quando ci siamo visti l'ultima volta nel frattempo oltre a fare altra strada ho avuto modo di pulire la tuareghe perché era piena di fango e di rigonfiare le gomme per riportarle alla pressione indicata e mi manca pochi chilometri giusto il tempo di arrivare a casa per arrivare ai fatidici mille però è arrivato il momento di tirare le conclusioni e che dire a me le moto così semplici se vogliamo semplici nel senso che non hanno troppi gadget o comunque non hanno gadget che non servono proprio alla guida come possono essere le manopole riscaldate la sella riscaldata oppure moto comunque leggere perché comunque 186 chili a secco non è così male come dato e soprattutto anche semplici spensierate da guidare quando si vuole andare piano vanno piano e anche quando si vuole andare forte dipende poi dalle capacità di ognuno ti assecondano e ti fanno fare meno fatica a me le moto di questo genere piacciono tantissimo soprattutto se sono adventure e soprattutto se possono andare in fuoristrada perché mi fanno proprio venire voglia di prendere e partire per un'avventura che sia su strada che sia in offrodo o meglio ancora se tutte e due insieme e devo dire che in questo la tuareghe 660 riesce proprio meglio te la fa venire un po la voglia di avventura come d'altronde mi aspettavo e come indica anche il nome la piattaforma 660 in tutte le sue versioni è davvero riuscita per quelli che invece non ne avessero ancora abbastanza e vogliono vedere proprio fuoristrada estremo vi ricordo che tra un po uscirà anche su dort la prova un po più completa comunque iscrivetevi al canale di dort che su youtube è get dort e su google lo trovate come get dort punto it e arrivati a questo punto direi vi direi di dirmi di scrivere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della moto e se volete sapere qualcosa in più se mi sono se mi dovessi essere dimenticato di trattare qualche tema se volete approfondirne qualcun altro sarò felice di rispondervi e ci vediamo oltre che al prossimo video anche su red live punto it dove c'è tutto su auto moto e anche biciclette